23 vasi di provenienza funeraria databili dal IV al III secolo a.C. che rappresentano la straordinaria produzione ceramica di età ellenistica scoperta a Canosa di Puglia, nella sesta provincia pugliese, compongono la mostra frammenti del passato, il tesoro di Canosa inaugurata a Palazzo Real Monte di Pietà, sede della prefettura di Barletta Andrea Trani. Sono dei vasi che di solito non sono esposti, sono negli archivi del museo e quindi oggi siamo veramente molto contenti che vengano esposti e resi fruibili a tutti quanti. I reperti, conservati nel Museo Civico Archeologico di Palazzo Liceto a Canosa, provengono da tombe aristocratiche ricche di corredi appartenenti al ceto di quelli definiti poi Principi Dauni, sotto la cui guida il centro divenne nel 318 a.C., città alleata di Roma. La mostra, visitabile fino al prossimo 12 giugno, apre una serie di appuntamenti per celebrare i 30 anni di attività della Fondazione, che dal 1993 si occupa della promozione di iniziative volte al recupero, alla conservazione e alla fruizione, dei siti che rappresentano il patrimonio archeologico di Canosa e sono testimonianze dello sviluppo che la città ha avuto sin dal VII secolo a.C. Mi faccio fare un applauso anche alla Procura della Repubblica per le operazioni di polizia giudiziaria che hanno portato al recupero di 3600 reperti. Sono proprio degli ultimi giorni che nell'operazione Canusium il Procuratore della Repubblica, con tutta un'attività e grazie ai nostri carabinieri, è riuscito a ridare alla popolazione, a tutti quanti questi vasi. Grazie.